Non mangiarlo a cucchiaiate. Se dico Stati Uniti, qual è il primo cibo che ti viene in mente? Pensa ai film, pensa alle serie televisive, pensa a Brad Pitt in Meat Joe Black. Ma sì, è il burro di arachidi. Non mangiarlo a cucchiaiate. Metti nel boccale le arachidi, lo zucchero di canna e un po' di sale e trita. Dopo aver tritato almeno un paio di volte, vedi che è diventato un composto cremoso e quindi aggiungi dell'olio di semi per avere la consistenza perfetta. Frulla ancora e voilà, ecco pronto il tuo burro di arachidi. Perfetto. E lascia solidificare in frigorifero almeno un'ora prima di utilizzarlo. Non mangiarlo a cucchiaiate. Lasciami un like se ti è piaciuto questo video. La ricetta è sul mio sito. Buona cucina con Flavia.